Il Presidente del Consiglio Conte convoca la sua bella conferenza stampa, la convoca facendo finta che ci deve parlare di un problema che ci riguarda, che interessa a noi, che interessa il nostro futuro, che interessa che cosa possiamo fare, che interessa il nostro Natale, i nostri desideri, i nostri sogni, le nostre speranze, le nostre difficoltà e le nostre tragedie e lo usa per fare altro. Da Palazzo Chigi, in prime time, con la domandina casualmente messa lì, a chiedere, Presidente Conte, ma che cosa ci risponde su questo fatto che c'è stato uno esposto alla Procura della Repubblica per chiedere conto dell'utilizzo pare improprio di uomini della sua scorta, per andare a mettere in salvo la sua fidanzata che veniva rincorsa da alcuni giornalisti per chiedere domande su una legge ad personam che il Presidente del Consiglio e il Governo italiano avrebbero fatto per il padre di questa signora, che pare sia stata aiutata dagli uomini della scorta del Presidente del Consiglio a scappare da quei giornalisti. E lui, davanti a milioni di italiani collegati per sapere se a Natale possono vedere i loro nonni, approfitta per dare la sua versione unilaterale a questa vicenda come se non dovesse, come tutti gli esponenti politici del mondo, difendersi in una sede propria, in una sede nella quale qualcuno possa rispondergli, in una sede nella quale si possa approfondire il problema politicamente e non ci sia semplicemente uno sproluocchio di un signore solo che ritiene di essere il padrone di questa nazione.